Da oggi, lavorare per Amazon con G-Group ha un vantaggio in più. Abbiamo pensato per te, che vuoi lavorare o lavori in Amazon, una serie di convenzioni per rendere più piacevoli le azioni di tutti i giorni. Scoprile sul nuovo portale a te dedicato, edenred4u.it. Naviga tra le diverse opzioni, i vantaggi, gli sconti e le promozioni che ti abbiamo riservato. Ristoranti, viaggi, shopping, tecnologia, tempo libero e tanto altro. G-Group ha riservato per te moltissimi benefit. Una volta individuata la convenzione più adatta a te, potrai facilmente ottenere, in modo smart e veloce, tutte le informazioni necessarie. Non solo. Per alcuni partner selezionati, potrai usufruire di un cashback diretto sui tuoi acquisti. Cosa aspetti? Consegniamo vantaggi? Visita edenred4u.it, il portale dedicato ai nostri lavoratori. G-Group per Amazon. G-Group per te.